ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono racing x e qui ospite c'è di nuovo dedumi ciao a tutti eccolo come sempre prima o poi vi romperete le palle ascoltarlo al mio canale allora vai quindi esibizione di ascoltarmi bravissimo grande spirito allora adesso faccio una bella partita rocket league ma non quello che tutti siamo abituati ma basket league diciamo anche se il rocket non è quello di calcio vabbè allora vai league dei razzi vabbè forse perché acceleri nel turbo allora vai in due mettiamo pro anche se non so che la difficoltà perché volte non ci stanno i bot vabbè comunque via e va e metti allora quindi lui qui abbiamo dei domini magari affacciatevi sul suo canale non so ancora se ha messo qualche video di rocket league pluripremiato medaglia d'oro perché lui fa paura rocket league è molto bravo perciò abbiamo scelto abbiamo scelto il basket perciò abbiamo scelto il basket che almeno è un po' più equilibrato per tutte e due sensi che forse entra o è sempre 1 a 0 e subito 1 a 0 è perfetto i grandi voli o all'inizio è sempre quello più difficile perché la palla rimbalza cioè no rimbalza viene lanciato in aria lì va a voto paese no o comunque è scato che video di quindi scato che video di allora dai quando si gira così a cazzo comunque no se vi interessa allora se vi interessa anche in passato ho messo qualche video stupido su rocket league particolare anche compreso anche comprese calci di rigore su rocket league voi vi chiederete ma come calci di rigore su rocket league andate a vedere che i calci di rigore è calci di rigore su rocket league quindi siamo inventati e ne abbia fatto una cosa divertente cioè particolare vai guarda che mi sono fatto un'autocarest pro io voglio solo del turbo vabbè meno male non avevo selezionato selezionato un ma devi scassano no guarda ho fatto ma comunque ho visto che non molti hanno apprezzato questa nuova modalità di rock e modalità di rocket league compreso se non mi sbaglio qui il nostro amico dei dumi vabbè ma a me non piace il basket in generale quindi il mio parere non è considerabile vabbè comunque io sinceramente la trovo cioè apprezzo questa novità no comunque la novità vabbè la novità che non è che ti obbliga a giocarci se vuoi giocarci ci giochi se no tanti cazzo è divertente è molto più difficile fare i punti rispetto a quello normale quindi magari c'è pure un po più di competitività competitività ma vaffanculo tra mo con vedi all'indietro sta grande concentrazione fa in modo oh dio no questo gioco ti fa dimenticare come si parla infatti c'è sa parlare dato dara stato poi ti fa sforzare più di quanto fatti eh più di quanto vai a defecare bravi se ti sei corretto sì sì inizia a fare subito eccolo non so come è entrato sinceramente che cazzo stai a fasi ecco da mentre giochi a me sono neanche a come ma comunque ho fatto un canestro molto particolare che non so nemmeno come fare la strada allora magari ovviamente penso che forse chissà sul tuo canale eh dei dumi pubblicheremo una partita normale solo che ti dico po' darsi quindi al car cio è vero che come lo chiama qui sul gioco com'è car leccio car leccio si oddio oddio di precisione no bellissimo eh mi ha dato un po' un assist meraviglioso no ah boh se fosse stata la porta quella da calcio si sarebbe in giro guardalo che compostezza la palla arriva che cazzo è fatta un po' di troppo così guarda come cincisco dai porca miseria dai benissimo no non so perché ero convinto che sta posto a fare intervento in qualche l'unico all'indietro sempre all'indietro sempre dietro vabbè vai per me il adesso non è che tutto e due è proprio liscio e clamoroso ce la concedo non è vero eccolo che cazzo stia qua che è sto stavo cia capire che chi ci sta a sentire ci sta a vedere chissà che cazzo pensa ma non si alza il problema è che spero per te che non ti riferisco la palla non è che ti sei tanto salvato basta adesso non faremo più gameplay parlato quindi da adesso in poi zitti che cazzo è successo ti ne c'è bene no che te lo salgo inconcepibile sta cosa qua come cazzo hai fatto tranquillità entra non entra entra rimbalzo rimbalzo alle palle va non è già avuto vai e mo lo batto ma che cazzo è ma 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 che è dal nulla ma che sto a vedere tipo 2 a 0 se non hai sbagliato no ho già rigirato mi rotto il cano rigiro e rigiro allora eh no vai dai mi rimbalzo no eh no devo recuperare adesso devo farlo subito un canestro porca punta tena tena bravissimo il nostro dai non farlo vai fai pure a me rimbalzo strano e il ca dai scusa ma perchè non mi dai faganessi non riesco a perdere te io boh che si io sono un coglione no non ci credo vai vai dai no fai rimbalzo strano ma ci pensi guardate oh ma è rotto lui si mantiene tattica perché tu si cheat tu si cheat parese io devo scaricare non si vede in bagno lui ah non sono mai stato in bagno vabbè rufficato dai almeno il 4 a te per far vedere che è stata abbastanza combattuta no è stata combattutissima però dai non fai almeno ho fatto no sto per fare canestro sto per fare canestro vabbè ragazzi ho perso in casa obiettivo sbloccato ah ho sbloccato visto la cosa di The Witcher lo stemma ho bloccato la pala di me vero vero allora quindi possiamo perfettamente andiamo al menù al menù e quindi ragazzi dopo questa fantasmagorica partita mettete mi piace mi sicuro no vabbè comunque no possiamo concludere qui il video se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate soprattutto fatemi sapere condividete bravo pure condividete almeno che adesso si sparge un po' la voce ma guarda che sto quei due tizi che non sanno giocare e quindi mi raccomando qui sotto in descrizione vi lascio il link del nostro carissimo youtuber non lasciarlo vabbè non lo lascio poi si iscrivono non voglio vabbè sto tanto registrato e quindi ragazzi ciao al prossimo video ciao a tutti e si lo cazzo mi cammè è delizioso bellissimo Grazie a tutti.